Vincenzo Galia IFC UO2 Master 40 Team faccio vedere solo allora sono 20 kg 5,5 kg per 35 kg totali ok quelli dell'ostacco li vedo dopo sbarra senza nastro guarda se si vede tutto guarda se si vede tutto aspetta che lui me l'ha messo meglio dimmi tu quando andare 3,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 2,1,2,1 1,2,1 1,2,1 Grazie a tutti. 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 Siamo a tutti. Puoi? Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai a tutti. Dai, 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 dai. Grazie a tutti.